Inverno ed influenza, un binomio ben noto, è allora importante anche evitare di contagiare più persone andando al lavoro troppo presto, per esempio. Nella seconda settimana di gennaio si è verificata un'impennata di casi di influenza e non siamo ancora all'acme del periodo influenzale. L'influenza ha bisogno di un periodo di recupero dell'organismo di circa sette giorni. Per un adulto in salute la malattia dura circa cinque giorni e per un buon recupero ce ne vogliono almeno altri due o tre. Per chi è più avanti con l'età invece sono necessarie circa due settimane complessive, una di malattia e l'altra di convalescenza. Il contagio tuttavia avviene quando ancora non si sa di essere ammalati, nella fase di incubazione ovvero in quel paio di giorni in cui si comincia a sentirsi poco bene e nei primi giorni di malattia quando si manifestano i sintomi veri e propri. Per prevenire il contagio quindi, dice l'esperto, è necessario evitare il più possibile i contatti e lavarsi regolarmente le mani. Non fate gli eroi, state a casa, guarite, evitando di portare sul posto di lavoro l'infezione e diffonderla.